Verso la porta, difesa da Russo, Palermo che vuole continuare a sfruttare questo momento che sembrerebbe favorevole almeno negli ultimi minuti. C'è ancora un tentativo di avanzata, tutta la formazione rosa-nero nella metà campo avversaria. C'è un fatto che per il portiere, poi il lancio in avanti con Lucera che soffia il pallone avversario. Ci sono due palloni in campo, la conclusione! C'è il vantaggio del Palermo, c'è il vantaggio del Palermo al minuto 36 della ripresa.